Insomma, gli immigrati servono, ce ne vorrebbero di più forse, non lo so, le chiedo, in Italia, servono alla nostra economia? Ma guarda, in questo momento bisogna dire, bisogna riconoscerlo perché... Ci vorrebbero più migranti? Ma in questo momento i migranti sono una risorsa perché il saldo tra quello che spendono e anche quello che versano tra tasse e contributo si aggira attorno a 4 miliardi e quindi questo è un saldo positivo. Ma ce ne vorrebbero di più quindi? In un certo modo muovono anche l'economia, ma io vorrei ritornare a uscire...